Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Captain Toad Treasure Tracker per un nuovissimo episodio Ok ragazzi l'ultima volta ci eravamo lasciati qua al vicolo delle insolite insegne con Toadette Avevamo completato la corsa in carrello al tramonto Direi di continuare la nostra avventura immediatamente e andare subito a vedere che cosa ci aspetta Allora vediamo da dove partiamo Uh partiamo dall'alto Allora vedo già due nemici lì Mamma mia che sembra abbastanza complicato come livello Allora di qua non possiamo andare Fatemi fare un attimo un piccolo zoom No scusate ho sbagliato tasto Ok Perfetto Cos'è sta cosa? Ah guardate che roba Con la luce che abbiamo sopra la testa possiamo visualizzare l'intero percorso Allora fatemi vedere cosa c'è qua dentro Perfetto Allora io mi ci butto E infatti abbiamo fatto bene Ho sbloccato un diamante Perfetto Ragazzi questo gioco è spettacolare Se avete una Wii U ve lo consiglio Caldamente No 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 ho sbagliato Ok via 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 Ah C'è mi hanno preso Mi hanno preso Mi hanno preso Mi hanno preso Via 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 Oh 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 yeah Non so più dove andare Non so più dove andare Non so più dove andare Ah peccato Mi hanno preso ragazzi Ok ragazzi Vi dicevo Che ve lo consiglio altamente Come videogame Allora dobbiamo stare attenti a non cadere in basso Perché ragazzi è un suicidio Andare giù Ok Vediamo la strada di qua è libera Allora qua si va giù Buttiamoci su questo tasto qua L'altro diamante l'avevamo già sbloccato Ragazzi Ok i percorsi sono Cambiati Allora mi do un'occhiata in giro solo Aha Io mi butto sotto Gaspita mi hanno visto Fungo 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 Aspetta forse non servirà tanto Però non importa Via 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 Sono piccolissimo ragazzi sono piccolissimo Dovevo evitare tutti sti nemici Allora andiamo su andiamo su Perfetto ce l'abbiamo fatta stavolta a sopravvivere Allora vediamo la strada Dove ci porta Allora Allora intanto vado a riprendermi questo diamante qua Che prima avevo già preso però Mi fa guadagnare dei punti Prendendolo di nuovo Anzi no Non mi fa guadagnare niente Vabbè non importa Allora illuminiamo la strada di qua Ok Perfetto Attenzione che non si interrompa di colpo Ok Allora Voglio vedere un attimo il livello Come è messo Allora la stella è lì sotto C'è qualcosa Che possiamo raccogliere Cos'è quella roba lì ragazzi? Guardate Il nostro nemico l'aquila lì in basso ragazzi Allora Vediamo se io vado di qua Mi butto giù Però ho visto il diamante Ok Allora Proviamo a buttarci Giù ragazzi Ah c'è uno scivolo Guardate C'è uno scivolo Ci fa andare Qui dentro Però qui dentro Finiamo già sotto Mi interessa prendere prima il diamante Quindi Mi ci butto Siamo piccolini Prendiamo subito il diamante Dai venite 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 Ah caspita Ok ragazzi Ce l'abbiamo quasi fatta Ho trovato anche un fungo speciale Che praticamente mi ha dato Tipo l'immortalità Perfetto Grandissima Toadette Che ha recuperato anche questa stella Ragazzi Ho preso anche tutti i diamanti Allora Vediamo Tutti fanta No Fangasmi Sconfitti Perfetto ragazzi Livello completato al 100% Passiamo al prossimo Allora Andiamo subito Avanti Toadette Ok Allora passiamo a Un caotico parco acquatico Con i funghi Che adesso cercheranno Di metterci i bastoni Fra le ruote Ragazzi guardate che livello Oh ci hanno già preso di mira Questi qua Allora Fatemi fare solo un piccolo zoom Ecco Perfetto Allora andiamo qua dentro Vediamo cosa c'è Oh guardate un diamante Ho già trovato il diamante Perfetto ragazzi Allora Allora di qui si va da qualche parte Sì Andiamo qua sott'acqua Perfetto Mi sembra che i funghi Non possano raggiungerci Perfetto Ottimo 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 Ottima cosa Noi intanto Noi intanto andiamo qua sopra Poi sotto Ci ripasso dopo Tunnel rosso Ci buttiamo giù Ok abbiamo alzato Il livello dell'acqua Perfetto Così possiamo Passare Senza nessun problema Allora Allora Andiamo qua Poi andiamo lì dietro Che ho visto Eh c'è un fungo dorato Caspita Però non so come andarlo a prendere Mi sa che ragazzi Che ho fatto una cazzata Alzando il livello dell'acqua Allora vediamo Passando per il tubo Giallo Proviamo a passare di qua Perfetto Andate di qua Grande Todet Ottima cosa Eh sì Purtroppo Ho già praticamente Concluso il livello Allora adesso Lo rifacciamo subito Ragazzi Vai Todet Veloce 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 Ok sconfiggili tutti Perfetto Abbiamo trovato il piccone È stato veramente Un colpo di fortuna Ok andiamo a prendere la stella Poi ragazzi Questo livello Lo rifaccio subito Perché ho dimenticato Di prendere un diamante Grandissima Todet Livello completato Perfetto Qui dice tutti Ah si chiamano Gomba Sconfitti Spero di averlo pronunciato Correttamente Ragazzi Rifacciamo subito Questo livello Andiamo solo a trovare L'ultimo diamante rimasto Ok Eccoci qua Allora riprendiamo tutte le monete E naturalmente il diamante Che magari ci da qualcosina Aspettate 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 La sotto ci sono dei pesci Che tengono sotto controllo Delle monete Allora Passiamo di qua Ok Ottimo Prendiamo queste piantine qua Ci da un fungo Ottimo 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 Salve Gomba Salve Gomba Allora Mi piacerebbe sapere come fare Ah ok ok Ho capito 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 Ragazzi Capito Capito Ok Prima forse L'avevamo già fatto giusto Allora Andiamo Sott'acqua Prendiamo Il tubo blu Andiamo su Perfetto Tubo rosso Ci fichiamo qua Buttati sopra Perfetto Alziamo il livello dell'acqua Scendiamo Vediamo se me lo fa fare Ragazzi eh Ah vedete Devo buttarmi giù Da Entrambi Di entrambe le piattaforme Lì in alto Se voglio arrivare Là sotto Allora Tubo giallo Ok L'altro diamante Non c'è bisogno di prenderlo Allora Ci buttiamo giù da qua Così riusciamo a ficcarci Qua sotto Perfetto Allora evitiamo i pesci Attenzione 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 Eccolo qua L'ultimo diamante rimasto Perfetto Abbiamo anche Recuperato una vita Ottima cosa Può sempre tornarci utile In futuro Perfetto Riprendiamo il tubo giallo Così ragazzi Vi ho fatto anche vedere Come Prendere Tutto quello Che bisogna prendere In questo livello Allora Però dobbiamo evitare Quelli lì Che sono proprio Lì davanti Allora Lì li sono saltato sopra Vai 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 Mentre siamo messi così Ok Dammi 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 il piccone Dammi il piccone Mamma mia Appena in tempo ragazzi Appena in tempo Allora Buttiamoci giù Buttiamoci giù Rompiamo almeno uno di questi Perfetto Abbiamo recuperato anche Il fungo dorato Allora Riprendiamo il tubo blu E siamo qua sotto Dobbiamo stare attenti A non farci uccidere Ok Tubo rosso Scendiamo Sì forse era No ragazzi Dovevo prendere il tubo giallo Scusatemi Sono sbagliato Ok Quindi tubo giallo Torniamo su in superficie Diciamo Superficie tra virgolette Questo qua lo salto in testa Così non c'è più pericolo Perfetto Passiamo qua sopra Recuperiamo Le monete che ci sono qua Ok Ottima cosa Perfetto Andiamo a prendere la stella E ragazzi livello completato Di nuovo Ma stavolta al 100% Perfetto ragazzi Allora Ok Perfetto L'abbiamo completato al 100% Anche questo Passiamo al prossimo Guardate Un foglio dorato Allora andiamo subito a vedere Perché questo qua ci permette Di raccogliere monete Che valgono poi Delle vite In più Nel gioco Allora Salve Lei cosa mi da un fungo Grazie Lei sempre qua che legge Manca quello che dorme ragazzi Ah è là dietro Guardate Allora io vado In questo mini gioco qua Perfetto Ci siamo sdoppiati Dai 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 Prendi tutto quello che trovi Dai 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 Veloce 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 Perfetto 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 Ottimo 153 monete ragazzi Non so se è il record È sicuramente il record In questo secondo capitolo Non so se Sono riuscito a battere Anche il record del primo Perfetto Passiamo all'ultimo livello di oggi Che si chiama In balia Della corrente Iniziamo subito Anche questo livello Ragazzi Vediamo che nemici Dovremmo affrontare Perfetto Si sta Tipo nevischiando Qualcosa del genere Ok facciamo un piccolo zoom Fatemi vedere qua Infatti c'erano già delle monete nascoste Grandissima todette Si sale di difficoltà Ragazzi Si sale di difficoltà Allora Attenzione Che ci lanciano Allora intanto Mi prendo tutte le monete Attenzione Questo qua Che ci lancia le asce Prenditi questo E levati dalle scatole Prenditi questo E levati dalle scatole Ok Quello lì Non si può colpire No no Non ci arrivo Dammi che Ecco la dinamite Ma piccata Però l'ho preso L'ho preso così Ragazzi Ottimo 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 Ok Ok Allora Allora Esplodere Questa parte Qua Prima voglio vedere Cosa c'è di qua Ragazzi Però Posso scendere di qua Ok Un'altra piattaforma No Ah no Ok Non Ai 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 Ragazzi Ai 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 Ok Ok Dobbiamo Distruggere i missili Che potrebbero colpirci No no l'ho mancato No Uh ragazzi che pelo Un altro missile di lì Ok No 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 Prendi il diamante No L'ho mancato ragazzi L'ho mancato Ho mancato il diamante Vieni Dai Ti sto aspettando Ok Meglio salire qua Caspita Ho mancato il diamante Ragazzi Vabbè L'avete visto Quindi sapete adesso Dove si trova Io passo di qua Al massimo rifaccio il livello Ragazzi Se vedo che ho mancato Troppe cose Si ho mancato troppe cose Quindi completiamo il livello Adesso Lo rifaccio Immediatamente ragazzi Grandissima todette Abbiamo completato Anche questo qua Però abbiamo preso Un solo No neanche un diamante Abbiamo preso No 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 Allora lo rifaccio subito Ragazzi Non voglio lasciarvi Così Dobbiamo Ah no ok Non c'è bisogno Di recuperare il fungo Perché Siamo già tornati grandi Perfetto Allora io intanto Mi recupero tutte le monete Qua Si ma prendi Però todette Ok Grande Ah ci ha presi Prima non ci ha preso una volta Avevo una mira Da far pietà Stavolta ci ha presi Sempre Ci ha preso il primo colpo No 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 Attenta Attenta Perfetto Eliminato in un sol colpo Ma posso ficcarmi qua Ah si guardate C'era un Sono riuscito a raggiungere un diamante Non sapevo che c'era Non sapevo che c'era anche Questo passaggio qua Ah beh Allora passo di qua Ragazzi Perfetto Siamo già arrivati Non abbiamo neanche bisogno Tanto della piattaforma Perfetto Recuperiamo le monete Perfetto Perfetto Il secondo diamante Eccolo qua Ah ce n'è un'altra di talpa Però Ah Ti prendo Presa Grandissima il piccone Era proprio quello che mi serviva Vai 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 Todette Vai 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 Grandissima Grandissima Abbiamo recuperato un sacco di monete Allora finiamo un attimo il lavoro qua ragazzi Ok Perfetto Recuperiamo quello che c'è da recuperare qua Le rape vabbè non importa Comunque ci danno Delle monete Delle monete Scusate Scendiamo qua Prendiamo una rapa qua Ok Allora attenzione adesso al missile lì Ok Colpito Adesso ce ne sarà subito un altro Preso anche questo No 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 Fermi il missile Mamma mia sfiorati da Ok no no evitalo Ho mancato di nuovo il diamante ragazzi eh Vabbè quello lo prenderò poi Per conto mio ragazzi Ok Intanto difendiamoci dai missili Che voglio almeno completare il livello Peccato Mi mancava praticamente solo quello Vabbè non importa Andiamo in cima ragazzi Allora Voglio solo vedere se c'è ancora qualcosa qua Infatti c'erano delle monete nascoste Comunque avete capito dove si trovano tutti e tre i diamanti Era questa la cosa che mi premeva di più Fatemi vedere se posso tornare indietro con la piattaforma Se posso tornare indietro Tento di prendere il diamante che ci manca No non mi fa tornare indietro No non mi fa tornare indietro peccato Vabbè non importa Lo farò poi a telecamere spente Allora andiamo in cima qua Prendiamo la stella La copia della stella Dato che l'abbiamo già recuperata Guardate com'è contenta Toadette Grandissima Perfetto ragazzi Allora ci chiedono Nessun danno subito come obiettivo bonus Vabbè siamo stati colpiti un paio di volte Non importa Ragazzi direi che l'episodio di oggi può terminare qua Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace Commentate e condividete Mi raccomando In descrizione potete trovare la mia pagina di facebook Iscrivetevi al canale per tenervi aggiornati Su questa serie che sto facendo E su tutte le altre E ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio Sempre qui su Captain Toad Treasure Tracker Alla prossima ragazzi Alla prossima